Il 1245, cioè la sconfitta di Germania nazista e Italia fascista, vuole dire per i paesi che hanno partecipato a questa sconfitta, parla della Francia, dell'Unitera, della Belgio, dell'Olanda stessa, vuole dire per questi paesi una sostanziale, strutturale e pendita del dominio coloniale nel mondo. Nel senso che nasce quello che si inizia, quello che noi abbiamo chiamato il terzo mondo, e cioè quello che poi comunque vanno a finire le cose, fino al neuronealismo, in questi due anni, nel fronte dell'Ira, della Ligia, eccetera, diventano soggetti della loro storia, questi popoli, non dipendono più dalla storia europea, anche se nella storia europea si vendica e fa delle evoluzioni indiscutibili. Ma questo ha un effetto sulla nostra musica molto importante. Perché? Perché c'è una tensione nella loro musica italiana, tanto per l'antifascismo e la resistenza, ma per le questioni che dobbiamo giustamente definire antifasciste negli altri paesi del mondo. Pensate, la Spagna. Dunque, i pensieri scritti sulla resistenza fino al 1976, in Italia, sulla resistenza, durante il cifro, sono a 39. I maggiori, che vanno da Pagagnini, a Rousseau, allo stesso Donatovi, che ne si chiama uno, a Roppo, a Sardegna, a Guaccia da Roma, a via Pagagnini, a Berogici, a Davino, a Breglanesi, che vanno dall'iniziale, in un'altra strada, a Castiglioni, a Manzoni, come dicevo, a Pagagnini, tutto spiegato e importante, eccetera. E allora, quando è pure accadente, dovete tenere presente che la partecipazione di questa nuova musica ad Armstead, cioè la nuova musica germano-francese, strutturalista, come si definiva, era molto critica. Nel senso, non soltanto perché un paderno e nero, sul spiassante elettronico, immediatamente esano una un'elettronica che non sostituisca la musica precedente, ma che l'articistica di una nuova realtà sonora. Pagagnini, a Berlè, che c'è di lei? Nel buon'idea? Se avete visto quella da bevara... Grazie. Grazie. Ma... la questione è straniera, diciamola così, non era da poco. Una premessa di quello che sto dicendo è che è molto significativo rispetto all'antifascismo che è sull'Ode del 45 e, in questo caso, in particolare, hanno 5 regioni, questa vita speciale. Guardate che avevano avuto un significato strutturale della vita del paese. perché il gerarchismo socio-geografico era finalizzato da 2 milioni, molto preciso. Per cui, per esempio, i meridionali facevano alcuni di servizio, che potevano essere anche dall'anno capo, ma alla struttura industriale, capitalistica, produttiva, mercantile, che va al nord. Non bisogna mai dimenticare che l'autostrada dal sole è fatta per la 600 della Fiat. e ci rompevano le scatole per questa 600 che, in una giornata, andava da Torino, da Milano, fino a Reggio Colabria. Sarebbe andata. In un mese mancava totalmente di strade di servizio per i mezzi di trasporto monale. Posibilmente, questo, come voglio dire, che non a caso, come noi abbiamo fatto, a Reggio Emilia, cioè nelle regioni, diciamo, democratiche e costituzionali, come Emilia, Luria e la Toscana, ma non soltanto in queste le forze democratiche, antagoniste, hanno fatto nascere dodici orchestre regionali, dodici orchestre, non soltanto tre, dodici, dove noi andavamo a fare la musica nuova. A Reggio Emilia abbiamo fatto, per tutti gli anni 70, le stagioni di musica in realtà, perché io ero stato un parate importante, e dove andate a Milano 180, la stessa rivista in realtà, in cui facevamo tutte le musiche, tutte le musiche, dalla canzone a Luis Noro, dove lui viene dovuto più volte a suonare, e Claudio Ballo ha portato l'orchestra della Rai di Torino. Sempre suonare in musica, non soltanto contemporanea, nuova, della nuova musica, ma anche in musica di diverso genere contemporanea, e in particolare anche del passato e del suo fatto. In questo senso, e adesso vi faccio un tanto io, concetti che su questa direzione continuo a organizzare qui a Milano un'associazione di amici di musica in realtà, per esempio, due anni fa, io con un grande, importante pianista che pensa, in questo caso, riguardo un'arma in Firenze, è stato decisivo, per cui sto dicendo, perché lui è molto apprezzato e molto attivo in Germania, abbiamo trovato un concetto degli inediti di Metrone, cioè i pezzi che abbiamo trovato nell'archivio mettoniniano erano gli appunti di Metrone, cose streguitose, cose di testa così tale, che erano gli appunti che facevano per se stesso, gli abbiamo fatti per la prima volta, e non c'è niente, e nessuna gente è venuta a comprare, perché fa pensare, la musica non deve far pensare, la musica deve far godere, cioè godi ma non pensi. Ecco, e invece, mi avvio una bruttele, se si forniamo minuti, però su questa strada, le attenzioni per fuori sono straordinarie, per esempio, tanto, e sapete che sulla strada delle regioni, a statuto speciale, nel 1962, nasce a Palermo, nascono le settimane della nuova musica internazionale della nuova musica, eravano tutti contro i festival, perché i festival in Europa e l'Italia, più di mai, erano stati inventati dalla borghesia anti cambiamento a tutti i livelli, già a quegli anni, per la fine della storia, soltanto la storia solo contava, e quindi anche quella fascista, che avevano avuto la propria garanzia, e... ah sì, eravamo, ferocemente, più di destra, più di destra, eravamo lavorati dagli stati, da questi stati, perché in questi luoghi, in cui quella settimana per un mese, si eseguiva da loro, con musica dissonante, non ci dicevano, inascoltabile, andavano loro, quei 182 di tutta Europa, rompevano le scatole, stavano chiusi da dentro, in una specie di ghetto, quindi noi eravamo appunto il ghetto del festival, e non a caso, a Palermo nasce una regionale internazionale con musica cittadine, dove si fa una nuova musica in tutta la città, per tutti i cittadini, e su questa onda, molto significativamente, perché nasce nel 62, nel 63, in cui quello che diventerà, il gruppo del 63, diventerà la nuova antagonistica letteratura, chiede di fondarsi a Palermo, in un lì, in una regione a statuto speciale, che era l'opposto di Venezia, che era l'opposto dell'Andrana, dove la Scala, in quegli anni diceva dei concetti della piccola Scala di Monti, che eravamo assorti nel 57, che era una sera, in cui si hanno addirittura preparato la Scala, un mangerezzo, trattandoci proprio con gli isolati, anche gli affamati, abbiamo buttato l'aria a tutti e abbiamo denunciato il ghetto della piccola Scala per la nuova musica, per i nuovi musicisti, per la nuova cultura musicale, Mentre, invece, riceva anche un esempio, adesso tutto rovinamente, però alla Scala, se non riuscite a fare una cosa che adesso, per il cielo, ve l'ho messa via la nuova. Scusate, non trovo più niente. Sì, qua. Allora, sull'unale di questo antifascismo, che non era soltanto ovviamente musicale, è venuto avanti il significato e l'importanza della guerra di Spagna, dell'antifascismo spagnolo, ma volendo una questione che fin dai primi pezzi di Nona, di Manzoni, di Guaccia, in genere viene posta la nuova musica. García Lorca. García Lorca era un poeta, secondo la versione ufficiale, importata anche dopo la guerra della Spagna di Franco, c'è fascista, era un omosessuale, era morto violentamente per raggiungere omosessuali e brutto a gama. García Lorca. García Lorca, come mi suggerà adesso detto come, musicalmente come, è stato assassinato da Francesco, in quanto poeta e scrittore anti-franchista. Com'è stato? E non a caso. Prima che avevo, me lo dovrebbe essere di accenno. E non a caso, questi musicisti che vi ho citato, fin dagli anni primissimi cinquanta, cominciato dal 19, scrivono dei pezzi sul García Lorca antifascista. dove l'antifascismo non è un fatto strettamente politico, è un fatto di una questione di fondo delle società di allora in tutto il mondo. E' un fatto vivo, il vivo e il falso, non la verità della logia. Ripeto, la verità e la logia l'abbiamo sempre sentite come due cose che riguardano il confessionale. Il vero e il falso riguardano la vita reale. La vita quotidiana dei uomini che vivono nello stesso tempo, nella stessa situazione. Noi siamo entrati, cominciamo un po' pure la questione di García Lorca. Così che, mentre il 62 nasce la nuova scelta internazionale di musica nuova a ballerlo, più tardi, in questione di generazione, parlo del 79, in Sardegna a Calvoli, però in una Sardegna, proprio rapidissimo c'è il nostro momento, che la Sardegna è stata un'isola colonizzata da Piemonte durante la unità italiana. in una maniera che, io personalmente, grazie a Capitella, per tanti psicologi di quel tempo che nascono con l'antifascismo, e che è andato, e io sono andato con lui, a raccogliere la prima raccolta che è andato con l'incanto popolare Sardegna. Non è andato con l'antifascismo, è vero che si è rappelata che aveva andato con l'antifascismo sulla García dopo la rivoluzione russa nel 1932, che aveva realizzato concretamente storico del comunismo che aveva andato con Mussolini, un uomo in una marcia su Roma, e, insomma, come è? Ecco, la Caglia era andato con questo straordinario convegno, festival spazio musica, andato ad arrivare per due mesi, e dura per decenni, e, voluto, pensato, pensato e diretto da Franco Oppo, cioè un compositore della musica nuova che si forma in maniera molto, o in diversa, sarda. Cioè, dentro la cultura sarda è una musica nuova, dentro la cultura è la prassima, così grande sarda, cosa straordinaria, e per cui fa. E allora, io ho lavorato molto con lui, andavo a Caglia, mi trovavo stupendamente bene, come anche a Sassano, perché la Sardegna è un miso antropologico veramente straordinario, che è un minario, non a caso oggi, è completamente freddumata. E, una volta abbiamo pensato, facciamo? Lui, cioè lui, ha pensato, dice, io ho visto che dovevano fare, intitolare un festival a Gersia Lorca, e così abbiamo fatto un festival dedicato a Gersia Lorca per tutti i mezzi, non soltanto italiani, di musica nuova, fatte su Gersia Lorca, e in mezzo un convegno. E, dunque, lo spazio musica, intitolato anche, intitolato a Lugano, del 1936, dal 25 ottobre al 6 dicembre. All'interno del quale ci sono stati quattro giorni del convegno intitolato la guerra civile spagnola e i musicisti italiani, di tutto convegno. No, questa è la mia relazione. Scusate. No, ma in mezzo è stato italato da Lugano e Gersia Lorca, fatto poi anche con molti spagnoli, e lì abbiamo avuto la ricostruzione scientifica dell'assassinio, della pratica del fascismo franchista di Gersia Lorca, ma, soprattutto, abbiamo parlato del perché c'è stata questa interrelazione tra una nuova musica per l'italiano, di Gersia Lorca. Cioè, come va, una questione generale, uno, poeta, un composito villato, una questione generale, per corte, lui faceva suonare le parole sulle questione generale che come funzionavano in quelli che gli rompuleva solo in una maniera che tutto aveva un significato opposto, non altro. Opposto. Opposto appena dobbiate. e, adesso, non voglio parlare, ecco, per esempio, senza perdere le proprie identità specifiche, ciò che viene perché anche il campo musicale, a parte dei musicisti e per esempio, l'antifascismo inteso, per ricerca, diritto, a esso, possibilità di bere e di conquistare. l'antifascismo avventura le nuove forme di organizzazione della musica e da gara. E scoprire proprio appunto l'ideologia fascista della ripetizione del ciò che ha avuto dalla regressione alla storia allo stesso. Società anche musicali ci ha fatte e i livelli anche musicali ci ha garantiti. In questo senso sono avvenuti diversi italiani e i musicisti italiani a parlare del loro racconto e della loro racconto e della loro racconto e della loro racconto e della loro racconto per dirvi cosa è stata la musica del giurascismo insomma una cosa straordinaria. Poi esauriscono questa operazione speriamo che vi abbia dato qualcosa se si 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 ah è perché quegli anni 80 sono una parte molto offensiva di questa operatrice non accendo soltanto a al 1900 no al 1947 prima della costituzione quando quando il governo partito comunista partito comunista partito socialista comunista decasperi decasperi viene chiamato la truma 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 aveva diventato una bella fredda portandosi saccocce che si dice una volta loro diventi straubata in Italia e soldi assoluto il governo partito socialista in Tunizia in Italia una vicenda anti-estusitale pazzesco c'è non soltanto una cosa che poi ascoltiamo uno degli effetti che hanno cresciuto sia proprio alla fine degli anni 70 quando in Italia dove già negli anni 60 era il 8 a livello vicino in Stato Unito sulla distribuzione cinematografica per cui il neorealismo immediatamente bloccato anche se continua più cinema italiano significativo ma senza tutto protagonista gli operai e arriva una di queste cose che era una creazione statunitese che ha fatto un monocollo americano della Russia comunale teoregola come agenzia con finalità non evitata dalla propaganda del futuro la mascheratura anzi non serve per scoraggiare ovunque c'è bisogno di situazioni indipendenti e democratiche della cultura muschiana c'è tutta la musica popolare viene mercantilizzata dalla maniera purgare e gli effetti sono anche pesanti di cantare musica non sto a meno tempo però voglio portarvi un esempio perché è molto importante il ruolo in particolare con la musica di canzoni eccetera di canzoni hanno appunto le feste e le comunità che sono state alla base del mercato dei come si chiama quello che faceva Milano Rosen dei vischi del sole e soprattutto della rivoluzione tra milioni gli ascoltatori preoccupavano molto di cantare e di comunicare attraverso ma dove anche non a caso abbiamo portato per esempio a Firenze il ruolo che si chiama a Castier di Manzoni nuova nel 75 e nel settembre è stata proiettata davanti 2-3 mila persone alla testa dell'unità di vendita di Firenze dove anche abbiamo fatto questo nodo siamo stati due amici per l'anniversario di 200 anni nel 77 metroneniani un convegno internazionale su betone perché tutto il sapere veniva regresso anche per la musicale ma ci saranno tante cose da dirvi per esempio per esempio nel 59 il testo del aereo era molto importante come da noi siamo andati un teatro un teatro musicale della musica nuova perché tutta la musica nuova europea interna l'opera considerata secondaria un fatto populistico eccetera invece da Manzoni a a Baccanini a Liberovi e adesso arrivo questo che gli ho citato al testo delle novità del 59 fino al 60 di Bergamo c'era la sentenza ecco poi un'altra cosa musicale ha spiegato e ho detto bene che soffermarmi anche perché è un amico persino quindi è stato protagonista cioè la musica per film guardate che l'Italia è il primo paese in tutto l'Occidente negli anni 50 nasce una rivista di musica Cino Amor di Videomistarco che pone la questione anche io responsabile della parte musicale che la musica non è da film deve essere da film ma per film sull'onda del ehm sia della Germania che dell'Unione Sovietica negli anni anni 20 quando in particolare da film è rispetto di Isenstern quando a fine degli anni ad Isenstern è un altro paese più vivo meraviglioso tutto una scelta musica ma non più filoso non più film ma filoso una musica doveva essere per film e non da film. La film è la musica che qua ci dice, spero che sotto c'è la musica dentro, spero che l'accompagna alla storia. Per film è la musica, è soggetto attivo per la dermatologia psicotografica, come nell'Alsander Pieschi. Paroco e Polvalotti con l'Alsander Pieschi non scrive la musica per l'Alsander Pieschi sulle immagini, ma in parallelo ad Ancestern, partendo dal testo, scrive, sapendo quanti minuti un pezzo all'altro, scrive autonomamente la musica che entra dialetticamente sullo schermo. Così è il numerifone. Tutti i suoi frutti sono scritti a latte, d'accordo con il registro, il primo testo, il primo caso è il suo vero sottovalutato. Anche questo fa parte dell'antipacismo, cioè del cambiamento, che deve vogliare le cose dovevano prima, dovevano quando veniva deciso come dovessero essere, non dagli attori delle cose che venivano fatte, ma di chi queste cose le usava secondo i propri film in generale di sottopressione del movimento. E quindi musica la musica. Il resto, nella unità di Bergamo, pensate che ci hanno partecipato Bergamo, il sceglie di fele gara, ma il fele gara è molto importante perché quando il margartismo impera negli Stati Uniti assassino, e il progno giroso perdico assassino impervere, vedete? Lui scrive immediatamente un pezzo da camera a prevoce sui fratelli rosso, sui progno giroso per il sostegno alla loro esistenza. E lo prevengono dopo, e gli stessi statuniti, ovvero riconoscono che non avevano fatto la spia e che erano stati assassinati e non giustiziati. Ma, questa non è una data politica, ma è un centro di un altro rapporto. Un rapporto vivo per fare, pensare, a fare musicale con l'unità musicalmente. Dove il suono diventa fondamentale, pensate a un canto sospettivo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.